e riprendiamo e andiamo avanti abbassiamo sta cazzo di locomotiva accendi la locomotiva ok allora penso che dovremmo andare sopra però per accendere non credo che scendiamo di qua no ma lì non mi serve niente scendiamo di qua cazzo minchia giù 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 via 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 porca troia che cazzo erano quelli bisogna combattere bastardi preso anche questo cos'erano con gli affari dei U ed arrivano bisogna ucciderli non mi fa inchiana dei robot bastardo dove sono bastardo cos'era quella roba lì preso preso in testa proposito che cosa si 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 preso in testa ok propulsore sui binari entremetti in moto vecchio a calmati 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 c'era ancora poche guardie qui rubiamogli tutto rubiamogli tutto ok ok dobbiamo andare accendi la locomotiva dove siamo noi ok quindi dobbiamo andare di qua aspetta eh aspetta fammi vedere anche questi no no ma non sparare lì ormai è per dove cazzo devo andare per accendere questa locomotiva minchia quanto cazzo è grande sto treno ragazzi fa paura non si può saltare da qualche parte qua forse qui sotto fammi vedere oh ma me lo lasci il coso qua la mappa cristo andiamo 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 via andiamo via e dagli alla coste armi eh devo scendere lì e devo andare devo andare a accendere il propulsore però di qua non va eh facciamo un giro di qua dove cazzo si accende sta fuori devo entrarli dentro eccolo lì e ancora con ste armi ma se non posso modificarle non vedi che non mi da da modificare e intanto qua vi dice sempre che è impossibile vedete perché sono video troppo lunghi come si entra qui forse da in mezzo da sotto eh mi sa che bisogna andare di qua no no ma ragazzi come faccio ad entrare qui devo eh lascialo giù la pazienza l'abbiamo perso non importa anche perché così andiamo un po' più veloci e come faccio ad entrare qua dentro non è che da sopra che devo andare qui e saltare dentro non è che da sopra che devo andare qui e saltare dentro ah ok andiamo via andiamo via andiamo a accendere sto cazzo di treno via basta ci stiamo muovendo devo raggiungere i comandi del treno ops minchia che figata questo minchia che figata questo minchia oh 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 che quindi o Porca puttana, che massacro qua Eh Preso Qui abbiamo preso tutto Mamma mia, quanti cazzo erano Porca troia Andiamo dentro qui Mamma mia, però si muove troppo veloce Eh, bisogna andare piano Ah, qui c'è l'altro corridoio Bene, l'accetta che mi può servire Questo è morto Ok, andiamo indietro Veloci come il vento E andiamo qua sotto Qui sicuramente c'è qualcosa da raccogliere Vedi Eh, bisogna sempre guardare No, no, non sparargli Guardate qua sotto cosa c'è Guardate dove le mettono Queste munizioni in merda Ok, possiamo andare Adesso saliamo qui Qui, l'altro corridoio Quello che abbiamo fatto prima No, no, quindi No, no, no Guardate che cazzo c'è qua Guardate che cazzo c'è qua E dagliela che me la da sempre con queste cose Preso Preso Che cazzo è questi affari qua Ah, raga, minch'è immenso sta roba Non finisce mai Non finisce mai Che cazzo è questi affari qua questo è fucile a pompa e questo e questo puttana merda dove cazzo devo andare adesso qua bel casino bel casino ma già bene che c'è munizioni da prendere sennò davvero non so come si potrebbe fare stanno cercando ci stanno andiamo a prenderci l'altra batteria via 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 di qua andiamo su e andiamo a prendere sti cazzo di comandi di atto fuoco robot ma che cazzo hanno creato qua guardate cos'hanno un massimo una corazza è meglio passare sotto forse andiamo lei sempre che mi mette ste armi ma la finiamo di mettermi ste cose arrivano da sotto anche, bisogna stare attenti via via aspettate un attimo mamma mia mi sono dimenticato di salvare ecco no se no devo rifarlo tutto meno male che ho salvato dai riprendiamo anzi interrompiamo un attimo e riprendiamo subito aspettate acluzare una . ecco adesso ecco 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 ecco